Buongiorno a tutti, sono Naike e bentornati al mio canale. Bene, volevo informarvi che ho deciso di inaugurare una nuova rubrica, cioè 10 cose che forse non sai su. Ho già girato i primi due video di questa categoria, sono entrambi su Il Torno di Spade o Game of Thrones. Su Game of Thrones saranno in tutto 4 video, quindi se avete delle curiosità da dirmi o se avete richieste particolari, non fatevi problemi e commentate pure tranquillamente. Questo è tutto e noi ci vediamo alla prossima. Ciao!